christian crash un nome una garanzia non lo vogliamo vedere va bene va benissimo bravo e a i i i guarda cosa si deve fare per guadagnare subito dalla lotteria grandissimo wow tonno sta prendendo confidenza che bel golo pulito adesso che hai preso confidenza mi fai una caos con il tuo scappellamento? riesci a destra? mi credo di si raciocci adesso che è preso confidenza ma fai una caos bravo Cristian da te la vedici bravo bravo Cristian guarda Cristian grandissimo oh si è lanciato grandissimo L'owell, l'owell, ma lo vuoi l'owell trattato? No, no, sto scherzando, lei basta il doppio scappellamento se riesci. E andiamo, bravo, un saluto. E' il doppio grande.